Gli elettori europei prenderanno la parola il prossimo maggio e io sono convinto che sceglieranno con una netta maggioranza i partiti europeisti. E comunque, l'è preciso che io rimarrò in carica fino al novembre 2019, quindi valuterò non solo questa manovra, ma anche la prossima. Il veleno nella coda, come si dice, no? È un avvertimento di Moscovici, bello netto. Vorrei cominciare con lei, Zigaretti, ma in questa situazione l'opposizione, perché a me colpisce molto... Il veleno nella coda, come si dice, no? È un avvertimento di Moscovici, bello netto. Vorrei cominciare con lei, Zigaretti, ma... in questa situazione, no? L'opposizione... perché a me colpisce molto... e... è una andata di Moscovici, forlò imagino, alla gioca da l'anatonza, è la verità della scuola. per ora sono assoluta. Ho? Dove no capito le Ho!